Buongiorno a tutti, sono Franky Mauro, Presidente dell'Associazione Pisicoltori di Coloniali Colli. Siamo oggi qua in un campo di piselli seminati a novembre e come potete vedere sono in piena fioritura. Successivamente entreranno in fioritura anche i campi seminati nei mesi successivi, quindi a dicembre, gennaio e poi a febbraio. Dalla fioritura alla raccolta passeranno circa 30 giorni e quindi i visi arrivano giusti per i primi di maggio per essere degustati nelle varie pietanze. Come potete vedere siamo in presenza di muriti a secco. Qui si sono stati recuperati dal nostro socio che ci ospita e testimoniano una tipa lavorazione eseguita per recuperare terreni nelle zone culinari inferiore. Ora fanno parte del nostro panorama rurale e agricolo di Coloniali Colli. Il visorto quindi a acquistare i visi di i pisicoltori di Coloniali Colli, l'enco lo troverete nella pagina Facebook dell'Associazione. Grazie. Grazie.